quando anni fa ci chiesero di restaurare la statua di pinocchio la prima cosa che gli rispondemmo è che bisognava restaurare la testa della gente non la statua perché poi l'avrebbero rilotta e in quella piazza c'erano due statue che mancava quella di pinocchio è quella del giovane di torre spaccata del giovane diversamente abile per cui il padre dedicò e pagò di sua tasca per fare quella piazza quel giardino che oggi e semi abbandonato ricostruire le nostre piazze come punti incontro dei ragazzi come momenti di scambio di conoscenza di vita di corsa d'amore e di sogni ecco per questo abbiamo voluto ricostruire la statua di pinocchio che speriamo un giorno tutti insieme di rimettere ai su posto perché il su posto è in quella piazza un nè in uno scantinato un è chiusa sotto non la vedo mai nessuno è un capolavoro io l'ho vista l'ho portata da roma a collodi a restaurare poi sono ritornato a ripigliarla e quando per caso una battuglia dei carabinieri mi fermò e mi ritrovò a pinocchio ritrovò quella statua nella mia macchina mi disse ho facciato i bischi questo portapinocchio mia porta una cosa qualsiasi eh sì viva pinocchio viva pinocchio che un è un volato